Salta per la terza volta consecutiva per mancanza del numero legale il Consiglio Comunale di Gela. C'era un punto all'ordine del giorno, lo statuto comunale, ma così come accaduto nelle precedenti occasioni, anche ieri la seduta si è sciolta. Quanto accaduto, dice il Consiglio Comunale del PD Rocco Giudice, è la testimonianza di un malessere che si registra a livello politico. Scaramucce che non fanno bene a nessuno. Non riusciamo a essere 20 consiglieri per incominciare a votare punto per punto lo statuto. L'ultima, ieri sera, eravamo in 17, non c'era il numero e siamo andati a casa. È caduto il numero legale, siamo a una nuova convocazione. E' una cosa insopportabile questo, facendo anche un'autocritica con me stesso, malaggiando la critica sia all'amministrazione ma un richiamo ai miei colleghi per vedere di lavorare e andare avanti. Tra l'altro, ieri sera non abbiamo parlato di questo, si è innescata un ragionamento, credo a maniera appropriata. Diversi consiglieri, diversi colleghi hanno posto con forza la questione dell'agroverde. Problema che è diventata lettera morta, nessuno ne parla più e anche questo è insopportabile. Ieri sera, tranne l'assessore Casano che era presente, l'amministrazione non era presente, il dirigente non era presente. C'è un mia culpa. Se le sedute del Consiglio Comunale saltano per mancanza di numero legale, qualcosa vorrà pur rappresentare. È il sintomo di una politica fatta in maniera superficiale. C'è molta rassegnazione, c'è introddisfazione da parte del Consiglio Comunale. Tanto è vero che qualcuno diceva che siamo arrivati a Capolinea, ieri sera qualche consigliere diceva, per un fatto di rispetto non faccio neanche il nome, siamo arrivati a Capolinea. Questa legislatura non produrrà più niente, ma la causa era ricercare. Ma io credo, così come nelle famiglie, il Capo Famiglia deve capire l'andazzo della famiglia. In questo senso qualcuno o non vuole capire o fa finta di non capire, ma la situazione di fatto è questa. Quando parla di questo si riferisce al Sindaco? Sicuramente mi riferisco al Sindaco, mi riferisco commercialmente all'Aggiunta, perché se non si riesce a essere 20 consiglieri per votare gli atti, qualcuno un richiamo lo deve fare. Non si può accusare gruppi di consiglieri che sono dissidenti. Dissidenti di che cosa?